Un po' di più, sì sì sì, un po' di più perché si è allenato bene tutta la settimana e quindi ha un po' di più. Sicuramente non può giocare la partita intera, questo è certo. È disponibile al 100%, chiaramente quando ci sono tante partite magari una potrebbe anche stare in panchina, riposare e recuperare questo. Però questo fatto di aver preso comunque Shakiri e Podoski ci dà questa alternativa. Credo davanti siamo a posto così, insomma, abbiamo tre giocatori che possono fare la prima punta, gli altri che possono giocare dietro, abbiamo cinque o sei giocatori in questo ruolo, quindi siamo a posto.